L'arcangelo Gabriele non stava più nelle piume. Bene, il buon Dio gli aveva dato un compito. Vai a cercare sulla terra una donna disponibile ad essere la madre del figlio di Dio, di Gesù. Oh, un compito importante. Parte subito Gabriele e non ha poi tanta preoccupazione perché dice tra sé, ma figurati. Ma la prima a cui chiedo mi dirà di sì. È un compito importantissimo essere madre del figlio di Dio. Ma figuriamoci quale donna si tirerà indietro. Svolazzando qua e là, finisce in una bellissima villa con la piscina, con un parco immenso. E vede una donna che sta parlando con degli amici, dei familiari. Si avvicina e Gabriele fa, vuoi diventare la madre del figlio di Dio? Ma figurati, fa la donna. Ma sto partendo per una crociera. Ma non ho mica tempo per queste cose. Poi un figlio adesso, ma nono, dai. Lascia stare. Arcangelo Gabriele, un po' con le piume strapazzate, riparte. Oh, che strano. Beh, forse ho sbagliato io, pensa tra sé. Forse ho bisogno di trovare una donna che sia immersa nel mondo. Che sia presa dalle situazioni della terra. Che rifletta e capisca bene che c'è bisogno di alzare gli occhi al cielo ogni tanto per cercare Dio. Figuriamoci se le propongo di avere nel suo grembo, nella sua famiglia, il suo figlio. Parte ed entra in un palazzo enorme dove ci sono un mucchio di uffici. In uno di questi uffici c'è una donna che sta al computer facendo i suoi calcoli, il suo lavoro. Si avvicina e Gabriele fa, senti, vuoi diventare la mamma del figlio di Dio? Ma figurati! Non vedi la borsa? Sta scendendo in questo periodo economicamente così in crisi. Avere un figlio? Ma no, ma dai, ma non preoccuparti. Guarda, qualcun'altra la troverai. Io scusami, ma proprio non ce la faccio. Non ci riesco. Ho altre cose da fare. Ho i miei interessi, i miei calcoli, i miei profitti, i miei tornaconti. Gabriele questa volta veramente. Ha le ali che sembrano pesanti quintali. Fa fatica a riprendere il volo. Poi ci riflette e dice, vabbè, forse stavolta ho di nuovo sbagliato anch'io. Andrò da una donna che ha già dei figli. Così sa cosa vuol dire. Figuriamoci se rifiuterà di avere tra lei, con lei, nella sua famiglia, con i suoi figli, il figlio di Dio. Parte e va da una donna che ha tre figli. Stanno litigando uno con l'altro. Gianni, ridammi la palla, me l'ha presa. Mamma, mamma, mi ha preso la palla, Gianni. Giovanni, smettila, Francesca. Sono stufo dei tuoi piagnistei, dei tuoi capricci, fa Giovanni. Stanno litigando tutti e tre, uno con l'altro, uno con l'altro. Gabriele si avvicina e dice, forse questa è la donna giusta. Senti, vuoi essere la madre del figlio di Dio. Ma tu sei pazzo, fa la donna. Ma non vedi questi tre che fatica faccio già a crescerli? Sanno sempre da litigare. C'è sempre qualcosa che non funziona. Nono, guarda, cerca qualcun'altra. Gabriele, ormai, sembra proprio deluso, sconfortato. Questo compito non riuscirò a portarlo a termine. E poi, nei suoi viaggi, finisce in una città della Galilea chiamata Nazareth, dove c'era una ragazzina che aveva, sì e no, 15 anni. Si chiamava Maria. Si avvicina a lei e dice, senti, vuoi essere la madre del figlio di Dio? E Maria risponde, ma non so, non so cosa vuol dire. Io poi non sono sposata e come faccio? Non capisco, però, senti, mi spieghi bene. E Gabriele comincia a spiegarle, senti, fidati, fidati di Dio. Anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio. Nulla è impossibile a Dio. Fidati, lui ti condurrà. Maria dice il suo sì e nasce Gesù, il figlio di Dio. Vedete, ragazzi, oggi celebriamo una grande festa, la festa di Maria assunta in cielo. La vedete dietro di me? Una bella statua. Con le mani alzate per raggiungere Dio. Perché Maria ha vissuto sempre con Gesù, prima ancora di concepirlo. Si è fidata, si è fidata di Dio. Ha dato alla luce Gesù, ha meditato, ha cercato di capire Gesù cosa voleva dirle, l'ha seguito per tutta la vita, fino a un grande dolore, quello di vederlo morire sulla croce. Ecco, vedete, ragazzi, che cosa ci insegna Maria? Ci insegna a guardare in alto, a non preoccuparci della nostra economia, dei nostri pesi, delle nostre difficoltà, dei nostri progetti, dei nostri divertimenti anche, ma a fidarci di Dio. E oggi essere assunta vuol dire che Maria non poteva stare distante da Gesù. Doveva essere con Lui. Ecco perché il Buon Dio l'ha voluta con Lui e con Gesù. Allora, ragazzi, Maria non se n'è andata lontana, continua a essere con noi, ma è un grande modello per la nostra vita, perché è un modello di fiducia. Ha saputo dire il suo sì anche quando era smarrita, preoccupata, disorientata. Allora, ragazzi, affidiamoci a Maria. Prendiamola come modello. Chiediamo che ci aiuti ogni tanto a dire i nostri sì quando siamo preoccupati, quando è difficile, quando vorremmo scappare via, quando abbiamo altri progetti. Ma soprattutto, ragazzi, ogni tanto possiamo dire di sì anche al Buon Dio. quando ci chiede qualcosa per poter essere presente nel mondo. A me un giorno ha chiesto di diventare prete. A te, oggi, potrebbe chiedere qualcosa di simile, perché nel tuo piccolo, con i tuoi amici, all'oratorio, a scuola, nel divertimento, in quest'estate, piena di attività, di giochi, di divertimento, di speranza, forse il Buon Dio anche a te può arrivare come l'Arcangelo Gabriele è arrivato a Maria e gli ha detto, senti, sei disponibile a dire il tuo sì perché Dio possa entrare nel mondo. Pensaci, riflettici e prova anche tu a dire il tuo sì a Dio come Maria. Grazie. 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 Grazie.